prego dottor forassieri non la sentiamo sì buongiorno perfetto prego buongiorno a tutti prego può relazionare sì allora se mi permettete io parlo sono dottor forastiere sono esperto di epidemiologia sono attualmente visiting professor presso l'imperial college di londra e parlo a nome della fondazione veronesi ho una brevissima presentazione che riguarda il disegno di legge in questione e volevo ricordare alcuni punti che sono importanti per quanto riguarda la protezione della salute il primo aspetto è che l'italia si trova attualmente sotto due sanzioni dalla corte di giustizia la prima del 10 novembre 2020 per quanto riguarda il pm i livelli atmosferici di pm 10 e la seconda del 12 maggio del 2022 per quanto riguarda il biossido di azoto quindi siamo stati attenzionati più volte dalla dalla commissione europea della corte di giustizia un tema importante quello che riguarda appunto è presente nel disegno di legge riguarda le auto diesel euro 5 e volevo ricordare agli onorevoli che si tratta di automobili che erano state già attenzionate nel 2014 quando scoppiò il cosiddetto diesel gate soprattutto per le auto di tipo volkswagen ma poi si è visto che era un problema che riguardava molti altri tipi di auto laddove le emissioni di nox di queste auto erano e sono ancora ben più alte di quello che era premesso permesso come limite di emissione di nox previsto dalla norma euro 6 queste macchine queste auto non sono state mai richiamate dalle società produttrici e quindi i diesel sostanzialmente sono dei forti emettitori di ossidi di azoto il tema dell'inquinamento atmosferico in italia è ben conosciuto con la regione padana la pianura padana con i più alti livelli di inquinamento in italia ma anche in europa la pianura padana è un caso speciale per la unione europea questo è il quadro che riguarda l'intero paese vedete come i livelli sono particolarmente elevati sia per no2 che per pm2 e mezzo e l'andamento temporale spesso e volentieri si dice ah però i livelli i livelli i livelli di pm2 e mezzo e di no2 sono diminuiti molto negli ultimi anni sì è vero c'è stata una diminuzione importante soprattutto nel periodo 2006 2010 ma a causa questo del cambiamento dei combustibili c'è la riduzione dello zolfo nelle nelle combustibili ma vedete che come sostanzialmente dal 2019 non c'è stata più una diminuzione dell'inquinamento atmosferico quindi sostanzialmente dal 2019 in lombardia non c'è stata una modifica e lo stesso per quanto riguarda i livelli di no2 la situazione attuale è ben descritta dal dal gruppo delle agenzie regionali di protezione ambientali che sono raccolte nel progetto prepare e queste vedete vedete che è la situazione di del livello di inquinamento atmosferico nella pianura padana quali sono i fattori responsabili di questo inquinamento ecco per quanto riguarda gli nox quindi il biossido di azoto il più grosso contributo viene dal trasporto stradale sia dal trasporto di auto ma anche dal trasporto di camion per quanto riguarda il pm 10 e il pm 2 e mezzo il grosso contributo viene dai riscaldamenti soprattutto dall'uso di pellet e legna per come combustibile ma anche dal trasporto stradale quello che non dobbiamo mai dimenticare è il forte contributo che danno le emissioni di ammoniaca che vengono dall'agricoltura non proprio dall'agricoltura ma dagli allevamenti intensivi perché l'ammoniaca emessa dai liquami si trasforma in particolato si trasforma in nitrato d'ammonio che sostanzialmente sono particelle ultra fine è stata fatta da un punto di vista sanitario una valutazione di qual è la mortalità prematura attribuibile al pm 2 e mezzo in Italia e vedete che a fronte quando si si prende in considerazione il livello raccomandato dall'organizzazione mondiale della sanità di 5 microgrammi metro cubo il carico di mortalità prematura in Italia di 70.000 decessi prematuri e 39.000 di questi vengono dalla pianura padana questo per quanto riguarda il pm 2 e mezzo e per quanto riguarda l'enio 2 sono 30.000 decessi prematuri e la metà viene dalla pianura padana non dobbiamo dimenticare che la commissione europea ha proposto una nuova direttiva della qualità dell'aria nell'ottobre dell'anno scorso questa direttiva è stata approvata dal parlamento europeo nel settembre 2023 il 13 settembre e è nella fase di trilogo quindi di discussione anche col consiglio e quindi con i ministri dell'ambiente ma è probabile che questa direttiva verrà approvata e comunque al di là di quando verrà implementata questa direttiva prevede dei dei livelli di concentrazione molto più stringenti di quelli attuali quindi le mie raccomandazioni sono che il provvedimento attuale è insufficiente per il dentro dei limiti e non risponde alle richieste della corte di giustizia la programmazione dovrebbe essere strategica di medio lungo periodo non certo sei mesi la programmazione giornale deve tener conto fin da subito dei limiti stringenti della qualità dell'aria previsti dalla prossima direttiva europea ed è importante che la programmazione strategica preveda il potenziamento delle infrastrutture e le opzioni di trasporto che consentono ai cittadini di abbandonare l'auto privata infrastrutture e opzioni di trasporto che consentono il trasporto su ferro e non su gomma interventi risolutivi per l'abbandono dell'uso di legna e pellet per il riscaldamento e interventi risolutivi in agricoltura e allevamento per limitare le emissioni di ammoniaca io ho finito grazie grazie dottor forastiere non mi pare che ci non mi pare che ci sono domani